Seconda giornata di campionato, campionato di eccellenza di fronte Real Forio e da Fragolese. I giocatori del Forio a coprire tutta la porta e poi ancora una conclusione alta. Palla alta del Sorbo, palla dentro, pericolosa Pianese, pallonetto a lato. Attento il portiere Mola, palla in aria, Cantelli gira, il pallone termina a lato. Pianese, bello il tiro e poi ancora l'occasione e sbaglia il numero 11, Fiammano, palla dentro del Sorbo, Ciano, palla ancora dentro, in aria, cross, tiro, alto, ancora pericoloso. E poi c'è ancora il Forio in possesso palla, trova il tiro da lontano che sfiora il palo. Pianese, palla in aria sul secondo palo, mischia poi, va al reale, calcia malissimo e c'è Libero del Sorbo in fuorigioco. Due con il compagno di reparto, Savio, Castagna ancora, ancora un cross di Conte, Cantelli, si gira, rigore, difende il pallone e guadagna un calcio di rigore. Parte Savio, tiro alto! Il Forio che deve far attenzione subito alla cross del numero 11, Fiammano. Questa volta riparte la Fragolese con Manzo che entra in aria, tiro a girare, bravo! E poi il gol, il gol di Pianese se non sbagliate, Pianese. Ha preso il via il secondo tempo tra Real, Forio e Fragolese. Parte Pianese, palla dentro, una deviazione, un palo. Tarascio ha preso il palo e poi il pallone termina fuori. Secondo angolo, palla dentro, ancora bravo Naldi. Un errore clamoroso. Scelzo controlla, tiro deviato, il pallone termina in angolo. Non viene servito, porta palla. Prova addirittura il tiro da lontanissimo. Giocata, poi palla dietro, un rimpallo, bravo Naldi. Ciano, larga per Ruscio. Buono il cross, bello il colpo di testa. Ed ecco il fischio, vince la Fragolese, 1-0.